La situazione della gestione dei fanghi reflui forse ad una svolta. È fissato per domani il tavolo fra Regione Lombardia e gli operatori interessati dalla spienosa questione sul conferimento del materiale di scarto, che tiene banco oramai da più di un mese. Nel frattempo, nel centro di stoccaggio A2A di Corteolona e Genzone, in provincia di Pavia, sono arrivate le prime 650 tonnellate di liquami. Tutto ha avuto inizio lo scorso 20 luglio, quando una sentenza della Tribunale regionale amministrativo ha di fatto mandato in tilt il sistema di stoccaggio di curazione Lombardo, incluso quello della Società per l'Ambiente e l'Ecologia di Sondrio. Il giudice, dando ragione al ricorso presentato da 65 sindaci del Pavese dell'Odigiano, aveva infatti fissato a 5 grammi il nuovo valore soglia di idrocarburi, sostanze potenzialmente tossiche per chilo di fanghi ad uso agricolo, contro i 10 massimi consentiti dalla delibera regionale, bloccando così l'attività dei depuratori, che non potevano più destinare i loro residui nei campi. Da qui, l'intervento di A2A, unica realtà individuata dalla Regione, con un decreto datato 7 agosto 2018, che sana, seppur parzialmente, la situazione. L'azienda dispone di un centro integrato, quello di Cortiolona, che i vertici da circa un anno hanno deciso di lasciare appositamente vuoto, interrompendo l'attività del ritiro dei fanghi, consci dell'incerta normativa attuale. La struttura, in vista dell'approvazione di nuove leggi, consente lo stoccaggio di ben 20.000 tonnellate di materiali di scarto, purché questo sia potenzialmente utilizzabile in agricoltura. I depuratori lombardi producono quotidianamente circa 3.000 tonnellate di fango. Facile ipotizzare dunque che questa soluzione non possa che essere temporanea. In Lombardia, soltanto un quarto del materiale di scarto viene destinato agli incerenitori. Secondo l'assessore regionale all'ambiente Raffaele Cattaneo, la situazione di EMPAS potrebbe trovare soluzione attraverso l'aumento del conferimento dei fanghi presso questa tipologia di impianti. Si tratta di una strategia avviata in questi ultimi anni, ha spiegato l'assessore, ma per far sì che ci sia una svolta concreta è necessario l'intervento del governo.